Una delle prime cose che ho fatto quando mi sono trasferito in questa casa è stato isolare i tubi esterni di acqua calda sanitaria e di riscaldamento. Ad esempio a questo collettore ho realizzato lo sportello e l'ho anche coibientato con un pannello in EPS. In un colpo ho aumentato l'efficienza dell'impianto e ridotto il tempo che impiega l'acqua calda ad arrivare al rubinetto. Tieni liberi gli scaldasalviette del bagno. Non lasciare su gli asciugamani asciutti e tienici su solo quelli da asciugare. Aumenterà enormemente l'efficienza. Spurga l'aria nell'impianto. Scegli il calorifero posto più in alto nell'impianto e sfiata l'aria. In contemporanea compensa la caduta di pressione aggiungendo acqua in caldaia. Tieni puliti i caloriferi. L'aria deve circolare dal basso verso l'alto. Quindi qualsiasi ostacolo all'interno come lo sporco o la luggine vanno eliminati. Anche i mobili che sono stati accostati troppo vanno scostati. O quando si costruiscono attorno i cassonetti per non vederli. Ecco quelli li vanno eliminati. Se vivi in casa sempre giorno e notte, tieni la temperatura dei locali più costante possibile, senza variazioni fra giorno e notte. Perché queste sono un enorme dispendio di energia. Perché la caldaia deve continuare a modificare la temperatura dell'ambiente. Usa le valvole termostatiche. Ci sono programmabili e gestite da app. E servono per tenere i locali a temperature differenti l'uno dall'altro. In funzione dell'uso. Io ad esempio in camera da letto tengo una temperatura molto più bassa della zona giorno. E ci dormo pure meglio. Se hai una caldaia a condensazione, fa in modo tale che condensi. Quindi devi tenere la temperatura di mandata dell'acqua, dell'impianto di riscaldamento, circa sotto i 55 gradi. Se però abbassando la temperatura hai freddo in casa, perché la caldaia non ce la fa, vuol dire che hai una superficie radiante dei termosifoni troppo piccola. Quindi devi allargare i termosifoni. Ovviamente devi tenere pulite e manutenute a caldaia e camino. Se non è proprio antica, tutte le caldaie odierne permettono di lavorare a punto variabile. Quindi modulando la potenza della fiamma in funzione delle variazioni di temperatura esterna. Però devono essere dotate di una sonda esterna, che costa pochissimo, veramente poche decine di euro, e permette un risparmio rilevatissimo. Di solito si mette a nord. Pannello solare pulito. Se hai un pannello solare per l'acqua calda sanitaria, tienilo pulito. Basta una passata con lo straccio bagnato un paio di volte all'anno. E ricorda al tecnico che viene a fare la manutenzione alla caldaia tutti gli anni di ripristinare nel pannello solare la pressione di acqua e glicole. Attenzione però che glielo devi dire quando prendi l'appuntamento, perché si deve portare dietro all'occorrente. Sfrutta il sole, quindi se hai finestra aperte a sud, tiene per te le tende, perché lasceranno entrare i raggi solari che colpiranno gli oggetti all'interno dei locali. Questi scaldandosi contribuiranno al riscaldamento dei locali e in modo sostanziale. Regola la temperatura dell'acqua calda sanitaria senza esagerare. Trova il rubinetto del tuo impianto più distante dalla caldaia. E regola in caldaia la temperatura dell'acqua dimandata, in modo tale che da quel rubinetto esca l'acqua alla temperatura che desideri. Apri le finestre dei locali per tre minuti, non di più, ma più volte al giorno. Così avrai una ventilazione perfetta senza raffreddare i locali. Lasciare le finestre dei locali aperte e spalancate per decine di minuti non serve a nulla e raffredda anche le masse interne che dovranno essere poi riscaldate con tanta energia. Se serramente hanno spifferi, sigillali. Anche le guarnizioni adesive che si trovano dal ferramenta aiutano a migliorare l'ermeticità degli infissi. Un'ultima cosa, controlla anche che la ghigliottina sotto la porta blindata sia regolata bene e vada imbattuta bene sul pavimento. Basta un calciavite a taglio e in due minuti hai fatto. Per risparmiare sul riscaldamento di casa non ti serve mica investire un capitale. Puoi abbattere il consumo di energia anche subito applicando questi semplici consigli. Se ti sono stato utile fammelo sapere mettendo un like a questo video e iscriviti al mio canale. Ciao ciao!